Il 2015 si apre con una notizia importante per il Mediterranean Track 2015. Le bolle di Ebole anche per il 2015 sarà la location che ospiterà il raduno più importante del territorio in termini di numeri e di presenze. Lo scorso anno furono 40.000 visitatori che raggiunsero il centro commerciale per partecipare all'evento, un numero che è destinato ad essere confermato anche nel 2015. Lo ha ufficializzato la famiglia Riviello. Dopo aver incontrato la direzione del centro commerciale e dopo aver valutato il successo della scorsa edizione, abbiamo deciso insieme con il direttore Longobardi di confermare quanto già fatto lo scorso anno. Del resto squadra vincente non si cambia. Di novità comunque ce ne saranno molte, a cominciare dall'organizzazione. Quest'anno infatti la famiglia Riviello affiderà due professionisti ebolitani la realizzazione e la cura di tutto l'evento, mantenendo comunque sempre uno sguardo attento su tutto ciò che succede. La struttura portante dell'evento non cambierà. Protagonisti saranno sempre i track e i loro conducenti. Una zona sarà come sempre adibita alla visita di questi straordinari giganti della strada. Non mancheranno le gare di accelerazione, gli stuntman, gli spettacoli, gli ospiti, le associazioni e tutto ciò che da sei anni caratterizza l'evento. Soddisfatto anche il direttore del centro commerciale Le Bolle, Flavio Longobardi. Un binomio che lo scorso anno ha funzionato benissimo. Per questo motivo la Trademart, proprietaria del centro commerciale, ha deciso di rinnovare la sua fiducia al Mediterranean Truck, alla famiglia Riviello e alla nuova organizzazione. Non mancheranno le sorprese che saranno svelate nel corso dei mesi.